Giovanni Greco è stato nuovamente rieletto come presidente dell'ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Catania e quali sono le prime sensazioni all'inizio di questo quarto mandato? Le emozioni, perché nonostante siamo già al quarto mandato, alla quarta volta che i colleghi danno fiducia al sottoscritto per guidare l'ordine per me è un grandissimo motivo di soddisfazione ma anche di responsabilità, le emozioni sono sempre le stesse abbiamo una squadra che è un mix tra esperienza e gioventù, abbiamo rinnovato le gari che abbiamo anche inserito dei nuovi colleghi dei giovani colleghi nel consiglio provinciale dell'ordine, è una bella squadra che si propone di portare avanti quelli che sono gli obiettivi di una categoria che cresce, che cresce anche a livello nazionale, cresce come competenze ma cresce anche a livello di prestigio nell'ambito libero professionale del panorama nazionale. Quale sarà il primo obiettivo da raggiungere? L'obiettivo da raggiungere è quello di una, in parte già è stato raggiunto, è una ritrovata unità all'interno della categoria il consiglio attuale è espressione di un unica lista e quindi abbiamo una sintonia anche con gli altri organismi territoriali che ci permetterà di ottenere degli ottimi risultati in ambito anche di interlocuzione con gli enti e soprattutto stiamo lavorando molto sul futuro della professione, quindi al divulgare il senso della professione di consulente del lavoro e la nostra professione anche tra le scuole e le università. Possiamo sintetizzare in qualche modo le linee programmatiche di questo mandato che sta cominciando in questi giorni? Le linee programmatiche già partiamo da una base importante, noi in questo inizio d'anno abbiamo avuto un incremento delle iscrizioni e nel registro dei praticanti e nell'albo dei consulenti del lavoro, quindi contrariamente a quelle che potevano essere le aspettative nel periodo post-pandemico di una fuga dalle professioni, invece andiamo incontro a una nuova primavera delle professioni, a una rinascita, a un rinnovato entusiasmo verso una professione giovane, bella, che riesce a darti anche delle soddisfazioni in termini professionali e perché no economici. Il territorio in questo periodo è un territorio che sta soffrendo ancora una crisi economica profonda oppure si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel? È un territorio che strutturalmente soffre, soffre per i motivi che tutti conosciamo, la questione meridionale esiste, è inutile che ce lo nighiamo, esiste perché scontiamo un ritardo importante in primis in termini di infrastrutture nei confronti del nord, basti pensare ai prezzi per raggiungere il continente con l'aereo, oggi a volte a ridosso delle festività sono proibitive, tutto questo è incredibile nel 2023, una continuità territoriale tanto sbandierata ma che di fatto non esiste. Guardando oltre il mandato, la gioia, la solidarietà e anche la fiducia dei colleghi, di cosa avete bisogno? Di risposte a livello governativo, immediate, farete delle proposte, cercherete di poter lavorare ancora più a fondo su tante problematiche che riguardano inevitabilmente quella che è la prima emergenza nel Paese, cioè il lavoro? Oggi è incredibile, ma anche nel nostro territorio, non è che c'è bisogno di spostarsi nel settentrione, è incredibile il mismatching tra domanda e offerta, le aziende che ricercano professionalità e non ne trovano, quindi il lavoro c'è ma non si riescono a trovare i profili professionali idonei, ecco, questo credo che sia oggi la chiave di volta di tutta, dobbiamo formare fin dalla scuola i professionisti del domani, le professionalità, fare in modo che nel momento in cui i ragazzi escono dalla scuola o anche in prossimità dalla chiusura del ciclo scolastico anche obbligatorie, siano già pronti attraverso forme di training on the job, siano già pronti a poter affrontare il mondo del lavoro con delle professionalità che in parte sono acquisite, in parte acquisiranno, se no è la grande sconfitta della scuola italiana, è questa, fino ad oggi è stata questa, bisogna ripensare tutti gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro, in primis ad esempio il contratto di apprendistato, ecco il contratto di apprendistato è rimasto alla grande incompiuta e questo è un qualcosa su cui credo che il governo stia prestando parecchia attenzione per degli interventi futuri. A proposito di governo si è parlato nei giorni scorsi anche dell'evasione, dell'evasione fiscale, dei lavori in nero, si fanno i conti con 100 miliardi l'anno, se consideriamo che una finanziaria l'ultima è attorno ai 25 miliardi possiamo comprendere la dimensione, è possibile che nessuno riesce a stanare gli evasori? Il problema dell'evasione è un problema grande che sicuramente va affrontato con degli strumenti idonei, a mio modo di vedere non è ad esempio fissando dei limiti al contante che si va a ridurre l'evasione, anzi, spesso ci sono provvedimenti che vanno a finire in una eterogenesi dei fini, ottieni un risultato contrario a quello che avresti voluto ottenere con degli strumenti normativi, repressivi, è una questione importante che va affrontata chiaramente con molta attenzione, con la repressione quando non si è più nelle condizioni di prevenirla, ma bisogna veramente intervenire con strumenti precisi e attenti, oggi la tecnologia lo permette. Abbiamo le banche dati, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, hanno le banche dati più potenti d'Europa. Siamo super controllati? Sì, si riesce, credo che con interventi mirati e ben organizzati, si possa riuscire ad ottenere degli ottimi risultati. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi Crevi il lupo, grazie.